La diagnosi è da una parte molto preoccupata e dall'altra non disperata, molto preoccupata perché i veri nemici della democrazia a mio parere non sono i nemici esterni, le cosiddette autocratie che non possono farci davvero molto male. I veri nemici che ci fanno molto male sono le contraddizioni che noi ospitiamo dentro la nostra forma politica, la principale delle quali è una contraddizione economica, cioè il fatto che dentro la democrazia c'è anche un sistema economico difficilmente piegabile alle ragioni della democrazia. Non ho detto che sia impossibile piegarlo, ho detto che è difficilmente piegabile. Parlo del sistema produttivo capitalistico che per una discreta quantità di anni ha convissuto con le ragioni della democrazia, quando la politica democratica era una politica forte, era in grado di avere un obiettivo e di avere una capacità di emancipazione dei cittadini. Per quanto riguarda l'Italia, questo è quella che noi chiamiamo prima repubblica, che abbiamo imparato a disprezzare e che invece ci ha portato dall'età della pietra all'età industriale, da quella povera Italia che era uscita dalla guerra all'Italia sesta potenza economica del pianeta, dall'Italia sostanzialmente autoritaria all'Italia democratica, dall'Italia dello statuto albertino all'Italia della Costituzione repubblicana. Quella era una Italia democratica piena di problemi per carità, non era l'età dell'oro, però era un'Italia che si impegnava nella democrazia e si impegnava nella democrazia perché la politica era forte e non era forte per finta o per violenza come quella fascista, era forte perché erano partiti forti, perché erano ideologie forti, perché la politica veniva presa sul serio dai cittadini e prima di tutto dai protagonisti stessi della politica che ci credevano. Ecco, lì, quell'Italia era un'Italia che conteneva il capitalismo, certo che sì, ma era anche un'Italia economia mista, cioè con una forte componente di economia pubblica ed era un'Italia in cui si poteva parlare di politica economica, cioè di indirizzare l'economia verso obiettivi. Un'Italia in cui perfino si poteva parlare di programmazione, e non ne parlavano i comunisti, ne parlava Ugo Lamalfa. Ecco, quella è stata una fase in cui il capitalismo e la democrazia hanno convissuto. Certo che sì, e questo perché il modello economico che era il modello che stava dentro quella fase democratica, era un modello keynesiano che aveva come obiettivo fondamentale quello della lotta alla disoccupazione, ed era un modello che è finito dentro un problema che con quella logica era insolubile, la stagflazione se lo ricorderà, cioè una serie di questioni che non potevano essere risolte con gli apparati concettuali dell'economia politica e della politica economica di quegli anni democratici. Quel modello è stato sostituito da un altro modello, quello che viene chiamato normalmente neoliberalismo, che è un modello che ha come obiettivo fondamentale la lotta all'inflazione, non la piena occupazione. Secondo questo modello l'occupazione è un effetto secondario rispetto agli equilibri di mercato. Prima di tutto concorrenza e prima di tutto grande fiducia che il capitalismo e il mercato possano funzionare da soli e costituiscano l'elemento fondamentale della nostra società. Quindi la politica deve essere riportata dentro ambiti di azione molto modesti, da qui la lotta ai partiti, la lotta ai sindacati, la lotta perfino allo Stato. Tutti ci siamo passati, questa fase che si è innescata con mani pulite, che ha visto la vittoria, la distruzione in pratica dei partiti della Prima Repubblica e la vittoria di movimenti politici, come diceva lei, fortemente populisti, antipolitici e al tempo stesso iperpolitici, perché erano poi guidati di solito da una personalità più o meno carismatica, a partire da Berlusconi, in poi abbiamo visto Forza Italia, abbiamo visto poi la Lega, abbiamo visto i Cinque Stelle, abbiamo visto adesso Fratelli d'Italia, la destra, tutti partiti che non hanno una consistenza territoriale, che non hanno... Ha dimenticato Renzi, è un'amnesia causuale oppure ha dimenticato Renzi, è un fatto... No, è un fatto psicologico più che altro, comunque sia, Renzi ha voluto fare del Partito Democratico, che era l'unico che aveva qualche vago ricordo di che cosa è davvero un partito, ha voluto fare anche di quel partito un partito della disintermediazione, un partito a forte venatura populistica e a forte venatura carismatica. È durato poco, però da quella esperienza anche il Partito Democratico è uscito sostanzialmente omologato agli altri partiti di questa nuova fase che chiamiamo Seconda o Terza Repubblica, secondo quello che vogliamo. Il punto è che qui da una parte c'è l'idea che prima siamo vissuti in un contesto non democratico perché c'erano i partiti, perché c'erano i sindacati, perché c'era l'intervento dello Stato nell'economia e oggi invece tutto ciò non c'è più, quindi siamo in democrazia, ma guarda, al tempo stesso tutti stiamo protestando più o meno asparamente contro il presente Stato di cose, che vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona. Noi oggi viviamo in un momento in cui la separazione dei poteri sotto il profilo istituzionale è molto dubbia, basti pensare che il potere legislativo, il Parlamento, insomma, sta attraversando uno dei momenti della propria minore fortuna, della propria minore capacità di incidere sul processo politico, che è tutto centrato, per quel po' che il processo politico conta, è tutto centrato sull'esecutivo, sul governo. Noi vediamo anche che non vi è una vera dialettica politica, qui nessuno sta dicendo che viviamo in un contesto di partito unico, in una tirannide, assolutamente no, sarebbe ridicolo, semplicemente stanno dicendo che non vi è una vera dialettica politica, sostituita piuttosto da un sistema di delegittimazione radicale reciproca, di invettiva continua, che è un'esperienza che facciamo in Italia, direi quotidianamente, è inutile che ce lo nascondiamo, ma che è molto più potente in paesi che noi prendevamo di solito come modello di democrazia, sia pure paesi molto diversi tra di loro, come la Francia, da una parte gli Stati Uniti, dall'altra, cioè siamo all'interno in Occidente con differenze, con differenze, ma insomma differenze che vanno attenuandosi, siamo all'interno di un processo che porta a una, primo, minor rilievo reale della politica rispetto alle esigenze dell'economia. Secondo, violenta contrapposizione politica, verrebbe da dire ideologica se non fosse che queste sono ideologie molto deboli, ma violenta contrapposizione politica in un contesto politico che va radicalizzandosi e dunque diventa sostanzialmente bipolare, chi è dentro contro chi è fuori, forze di sistema, forze antisistema, con autentici pericoli per la democrazia. Voglio dire, un tasso di delegittimazione reciproca come quello che conosce la Francia, come quello che conoscono gli Stati Uniti o come quello che, un po' meno per fortuna, stiamo cominciando a conoscere noi come quello che sta cominciando a conoscere la Germania, problema gravissimo perché la Germania o è stabile o è un pericolo per tutti. E allora il fatto che in Germania stia crescendo una forza che non sarà violenta, ma è duramente antisistema come AFT è un problema per tutti. Bene, allora noi abbiamo una situazione in cui quel gioco di corpi intermedi, di confronto ideologico anche intenso, non c'è nulla di male nel conflitto ideologico, ma quella condivisione di un elemento di fondo senza il quale la democrazia non c'è, quella idea che il cittadino, perché poi il punto è questo, non è solo davanti al potere economico, non è privo di speranza, non è privo di fiducia, perché la politica c'è, lo aiuta, perché la politica serve a rendere l'ambiente in cui viviamo un ambiente non completamente oscuro e minaccioso. Quando questo non c'è, quando il cittadino è solo, quando il cittadino ha paura, quando il cittadino è privo di fiducia, o non va a votare, e questo è, come dire, secondo me il peggiore dei mali, o va a votare per partiti, forze politiche, movimenti che illusoriamente gli promettono cambiamenti che poi di solito non riescono a portare a compimento. Noi siamo passati da una situazione che lei ricorda benissimo, in cui l'intellettuale, soprattutto se era di sinistra, si sentiva molto garantito, molto protetto, poteva parlare, poteva perfino illudersi che la propria voce fosse importante. Poi, appunto, tutta quella serie di movimenti populisti e al tempo stesso verticistici, cesaristici, che hanno segnato la fine della prima repubblica. Da quel momento in poi l'intellettuale è stato un personaggio deriso come inutile e allora ha imparato, da brava tartaruga, a ritirare la testa dentro la propria corazza e a sostanzialmente farsi gli affari propri in quel che resta dell'università. Ma la cosa che dobbiamo constatare è che quel ruolo è stato preso da giornalisti o da influencer, che non sono la stessa cosa evidentemente, e che cresce in chiunque svolga un'attività intellettuale l'idea della propria impotenza sostanzialmente. E non a caso questo libro l'ho scritto per dimostrare prima di tutto a me stesso che noi uno spazio l'abbiamo, che è lo spazio della critica. Noi non riusciamo a cambiare il mondo, però riusciamo a dire qualche cosa sul mondo e più lo diciamo con onestà e radicalità, tanto meglio è. Noi oggi stiamo vivendo una fase in cui sostanzialmente nessuno crede più a niente. Oppure, che è lo stesso, un mucchio di persone che credono alle cose più bislacche, più assurde. È praticamente la stessa cosa quando non si crede più a niente, si è indifesi e si è pronti a credere a tutto. Per quanto riguarda quell'episodio che lei citava, io ho appena scritto un pezzo per un quotidiano italiano in cui sottolineavo un altro punto. Anche perché quando l'ho scritto non era ancora nata la risposta filogovernativa, guarda quella è di sinistra. No, io l'ho scritto a proposito della risposta del Presidente del Consorio dei Ministri che ha detto come ti permetti tu di andare contro un decreto emanato da un governo liberamente eletto. Come dire, l'elemento elettorale schiaccia ogni altro elemento. Quella che viene chiamata intelligenza artificiale non è né intelligenza né artificiale. Non è artificiale perché per fare certe cose bisogna metterci molto denaro, cioè c'è un investimento e questo ha una finalità. Nessuno è generoso a prescindere una specie di babbo natale che paga fior di ingegneri elettronici per il gusto di pagarli. L'intelligenza artificiale è sviluppata a scopi di potere politico oppure a scopi di potere economico, come tutto quello che c'è a questo mondo. Però va detto, gli unici che nascono finora non strumentalizzati sono gli esseri umani, che non nascono per calcoli di potere economico o calcoli di potere politico, ma nascono, si suppone, per un atto d'amore che ci dovrebbe far riflettere. Poi non è intelligente perché qualunque sia la definizione che diamo di intelligenza. Il meccanismo di funzionamento è una sofisticata analisi statistica operata da computer potentissimi su base di dati mostruosamente grandi, da cui, e faccio un esempio banale, quando si dice buongiorno alla macchina dell'intelligenza artificiale, questa risponde buongiorno perché ha imparato, guardando i propri dati, ha imparato che normalmente quando qualcuno ti dice buongiorno gli esseri umani rispondono buongiorno. Non aumenterà mai in alcun modo il sapere e non saprà di sapere e non saprà di non sapere. Non ha niente di umano nel senso alto della parola. Se poi gli umani nel frattempo vogliono diventare qualche cosa di… o purtroppo sono già diventati qualche cosa di semine, questo è il problema. E credo che se paghiamo uno stipendio a un giudice questo qui debba sforzarsi di essere come abbiamo detto, cioè un essere umano razionale e libero e che non debba essere un esecutore statistico della sentenza media. E certo, infatti il nostro rischio è vero, non è che queste macchine prendano il nostro posto, è che siamo già diventati noi come quelli, cioè che per far meno fatica noi facciamo continuamente operazioni statistiche, va bene, però in determinate circostanze è necessario che si allumini una lampadina nel nostro cervello e questo la macchina non lo fa, non lo fa perché non lo sappiamo nemmeno noi come facciamo a farlo e non riusciamo ovviamente a riprodurlo. Per cui utilissima una macchina del genere, accidenti, utilissima, sapendo bene che è il nostro strumento, che non è pari a noi, che non ha dignità di intelligenza, meno che mai dignità morale come qualcuno ha scritto, no? No, non esistono i diritti del robot, ecco perché tra l'altro non esistono ancora i robot. Il fatto è che la democrazia è un regime come tutti, che non ha in sé alcuna necessità, è continuamente esposto alla contingenza, deve continuamente fare i conti con la storia, con la cronaca, con la contemporaneità e quindi deve continuamente fare i conti anche con l'imprevedibile. Vi sono forme di imprevedibilità che sono prevedibili in senso lato e vi sono forme di imprevedibilità completamente imprevedibili. Per cui vi sono elementi di frizione fra la democrazia e l'ambiente che possono essere gestiti attraverso un uso emergenziale dei poteri e vi sono momenti di catastrofe. Allora noi mettiamo da parte un attimo le catastrofi perché quando ci sono, ci sono e non c'è niente da fare e soprattutto come uscirne è un atto e appunto è una decisione sul caso d'eccezione che è per definizione non programmabile. Pensiamo all'Italia esce dalla seconda guerra mondiale devastata e distrutta e chi lo poteva prevedere e chi poteva prevedere l'esito, la caduta del fascismo eccetera, lì è successo qualche cosa in un paio d'anni, un disastro politico, economico, sociale e militare da cui siamo venuti fuori con una grande decisione, cioè l'assemblea costituente. E questo è qualche cosa che non si mette per iscritto, non lo si anticipa, non c'è una norma per gestire questi progetti. Mentre invece il fatto che un certo fiume, un certo sistema di fiumi straripi tutti gli anni genera un'emergenza, a parte che genera la questione ma perché non facciamo qualche cosa per impedirlo, in ogni caso genera un'emergenza che può essere prevista da una norma. Cioè ci può essere scritto che in determinate circostanze il potere esecutivo prevale sul legislativo, il potere amministrativo prevale sul potere esecutivo, entrano in gioco determinate istituzioni. Insomma, vi è modo di gestire anche l'incidente. Ecco, il fatto è che quando gli incidenti si moltiplicano o siamo molto sfortunati o c'è un ambiente ostile, allora bisogna chiedersi che cosa sta succedendo, o c'è qualcuno che sta lavorando male o c'è qualcuno che adopera l'emergenza per governare in modo un po' più sbrigativo. E quando questo capita, ovviamente i processi di governo durante le fasi d'emergenza sono abbreviati, il potere si concentra ancora di più, ripeto, nell'esecutiva, addirittura nei rami amministrativi, tutto diventa più facile per chi agisce, certo, e tutto diventa invece più costrittivo per chi subisce. Allora, quando questo diventa qualcosa di quotidiano o quasi, quando il governo, e non ho detto che questo sia in Italia, quando il governo adopera la paura, e ne abbiamo mille motivi, adopera la paura anziché per stabilizzare, per destabilizzare e per destabilizzare al fine di avere ancora più potere, allora qui sta capitando qualche cosa, sta capitando il passaggio da regimi emergenziali a un quasi regime d'eccezione. E questo è una contraddizione interna alla democrazia, rispetto alla quale non si può fare altro che alzar la voce, dirlo, possibilmente senza dire sciocchezze, senza negare l'evidenza, senza negare l'emergenza quando c'è, e tuttavia dirlo, dire, attenzione, il nostro obiettivo deve essere la normalità, non l'emergenza. La nostra Costituzione, giustamente, dice che l'Italia ripudia la guerra, il che significa come strumento di violazione della libertà dei popoli e come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, che vuol dire sostanzialmente che lo Stato italiano rinuncia al diritto che ha ogni Stato di fare la guerra. Rinuncia. Vi può rinunciare perché ce l'ha. Io non posso rinunciare a possedere una Ferrari perché non ce l'ho, per cui sto dicendo una scioppezza. Se invece dico rinuncio a possedere la mia automobile, ha senso. E vi rinuncio davvero. Tra l'altro questa rinuncia è il biglietto di ingresso indispensabile per entrare nell'ONU, che è un'organizzazione di stati sovrani che ha come obiettivo quello di eliminare la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, cioè di togliere alla sovranità uno dei suoi strumenti, la guerra, mentre lascia alla sovranità altri strumenti. Bene, naturalmente la nostra Costituzione continua a parlare di guerra, continua a descrivere chi la decide, chi la proclama e chi la conduce. Perché questa? Perché tiene in considerazione due ipotesi. La guerra difensiva, prima di tutto, e poi la guerra che il paese fa, in quanto è coinvolto in una grande coalizione, a fini pacifici, coalizione che tuttavia possa essere impegnata in una guerra. Per cui non siamo nel pacifismo assoluto, proprio a livello costituzionale. Ma insomma, il punto vero è che la politica con la guerra ha qualche cosa a che fare in modo strutturale, cioè la politica è esposta alla guerra. Noi siamo una media potenza, forse piccola ormai potenza, siamo relativamente poco in grado di decidere sovranamente sulla guerra e sulla pace. Ma questo non vuol dire che in questo pianeta non esistano grandi potenze che sono ben in grado di decidere sulla guerra e sulla pace e lo fanno. E quando lo fanno può capitare che ci entriamo anche noi. E allora, quando ci entriamo anche noi, è veramente avvilente assistere alla contrapposizione. Come al solito, il paese è spaccato, non sulla base di una dialettica argomentativa, ma sulla base di fideismi. Da una parte cieco fideismo nelle ragioni dell'uno e dall'altra cieco pacifismo. Questo ci condanna naturalmente a essere un paese subalterno, passivo, che non elabora un pensiero, non è capace di elaborare una linea di condotta. Si fa prendere dal tifo perché non sa giocare al pallone. Questo è il punto. Perché nella guerra è semplicemente il fatto che la politica entra nella storia, sta nella storia. Quando uno sta nella storia non è che può fare tutto quello che gli pare. Purtroppo, se vogliamo diciamo purtroppo, mille volte purtroppo, ma insomma qui o si ragiona in termini di guerra giusta o si ragiona in termini di guerra reale. Guerra giusta vuol dire non solo chi ha varcato il confine viene rispedito indietro, ma viene anche costretto a pagare i danni e i suoi capi vengono pure processati. Certo, basta riuscirci. E se abbiamo in mente solo questo sbocco, che cosa facciamo? Facciamo guerra a oltranza? Cresciamo continuamente lo sforzo militare? Fino a che punto siamo disposti a spingerci? Perché qui bisogna poi parlare seriamente. Fino a che punto noi vogliamo che Putin torni indietro? Quanti carri armati vogliamo impegnare? Combattiamo fino all'ultimo Ucraino? O ci andiamo anche noi? Parliamo seriamente. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è se invece uno ha in testa una visione un pochino più complessa della storia e del mondo del rapporto fra guerre politiche, prima di tutto si dispiace molto che la cosa sia stata portata fino a questo punto. E in secondo luogo non vede altra soluzione che è un compromesso. Cioè, la vogliamo far finire questa guerra o vogliamo andare avanti per l'eternità? Qui non si tratta di dire da che parte stiamo, perché non importa poi a nessuno da che parte stiamo. Quello che importa è che cosa vogliamo, che tipo, come sempre, che tipo di pace abbiamo in mente. O non abbiamo mai in mente la pace, abbiamo in mente soltanto la guerra, ripeto, fino a quando tutti i russi vengono respinti al di là del confine e vengono costretti a pagare le sanzioni, le riparazioni di guerra e i loro capi vengono processati da un tribunale penale internazionale. Questa è la guerra giusta. Vogliamo fare questo? Lo diciamo, mettiamo in conto che a un certo punto quelli magari cominciano ad operare le bombe atomiche? Oh, e questa è la prima cosa. Oppure, chimiamo il capo davanti alla prepotenza. Diciamo che è stata una serie mostruosa di errori ha portato a questa cosa, speriamo che non si ripeta. Ricordiamo che la Germania è stata per 50 anni spaccata a metà e che la Corea è da 70 anni spaccata a metà e che il compromesso fa parte della nostra vita, molto ancora di più per la vita, della politica. O noi partiamo con una guerra giusta contro tutti coloro che fanno qualche cosa che non ci piace? Chi è che è il bellicista a questo punto? Chi è che sta dicendo cose che o sono fuori dal mondo o sono pericolosissime per il mondo? Qui bisognava evitare che questa guerra cominciasse, non adesso che è cominciata a dire che si va avanti per l'eternità. Ripeto, perché prima o poi gli ucraini finiscono e allora ci andiamo noi? E se invece noi cominciassimo a ragionare che cosa vuole davvero Putin? Perché lo vuole con le armi? Quale tipo di ordine europeo si può configurare? Di che cosa c'è bisogno lì? Vogliamo tenerci una ferita purulenta per l'eternità? Il mondo è cambiato, chi vuole che il mondo cambi in modo tale che la Russia si schiacci completamente sulla Cina? Ci conviene? Kissinger ha fatto tanta fatica, a separarle e noi le vogliamo riunificare? Insomma ci sono molti problemi dietro, non c'è soltanto quello che… Il livello del diritto internazionale, che è quello che ci consente di dire aggredito aggressore, è uno soltanto dei livelli con cui chi vuole fare politica e non propaganda deve confrontarsi. Poi se vogliamo dire che è male invadere i paesi sovrani, sono il primo a dirlo, visto che credo nella sovranità, però è anche male una volta che qualche cosa è cominciato non pensare a come farlo finire, se non con la estinzione fisica di uno dei due, facciamo estinguere la Russia.